Oggi abbiamo con noi questo coltello della riproduzione del film Rambo 5 e come possiamo vedere è molto pratico dall'impugnatura, è salda grazie a questo semi grilletto che troviamo per tenere salda appunto il coltello. Come possiamo vedere è tutto un'anima cioè il manico con la lama è tutto un pezzo dopodiché l'impugnatura viene aggiunto dai lati della parte metallica e quindi abbiamo un coltello veramente saldo e se vogliamo anche da utilizzare per il nostro bosco incursioni in campagna o quant'altro quindi comunque semi affilato quando lo vendiamo noi ma comunque si può affilare per aumentare il taglio del coltello. Possiamo vedere in questo finto cuoio la custodia del coltello dove va riposto che viene compreso appunto con il coltello e in più abbiamo questo cordura alla base del coltello che in caso di necessità si può sciogliere e utilizzarlo per appunto fare dei legali e legare delle cose o dei nodi per quanto possiamo nel bosco e ci serve questa praticità quindi un po' universale e pratico da mettere appunto sulla nostra cinghia come possiamo tenere dalla custodia oppure come collezione da tenere nella vetrina. Grazie a tutti! Grazie a tutti!